Siamo alla partenza per questa aspetta molto ostica, ma speriamo di tornare belli, contenti, felici per una straordinaria vittoria da parte nostra e di tutti questi ragazzi che veramente hanno lasciato la scuola e le famiglie per venire questa grande partenza. Grazie per la visione! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!